Musica Presentate questa mattina in sala giunta le finali nazionali US-Akli, una manifestazione che coinvolgerà atleti, tecnici e dirigenti da ogni parte d'Italia con una partecipazione prevista di oltre 15.000 persone coinvolte in più di 30 discipline sportive. Venerdì 25, importante appuntamento all'Istituto Penale Minorile di Nisita con la visita dell'allenatore della Nazionale di Calcio Under 21, Ciro Ferrara. E sabato 26 verrà inoltre consegnato all'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, la seconda edizione del premio Bearzot. Oltre 800 atleti da tutta Italia e da diverse nazioni europee e 72 squadre partecipanti renderanno Napoli ancora una volta capitale degli sport acquatici dopo il successo dell'America's Cup. Si svolgerà infatti il 26 e 27 maggio alla piscina Scandone il meeting internazionale di nuoto master Il Gabbiano Napoli. Una due giorni all'insegna dello sport e della promozione turistica della nostra città dedicata alla memoria di Aldo Caputi, l'ultra novantenne atleta napoletano più volte vincitore del master e scomparso lo scorso anno. Diego Sanchez and Friends, un passo per la vita. Lo show in favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori è in programma lunedì 28 maggio a partire dalle 20 alla Casa della Musica Palapartenope di Napoli. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura si alterneranno sul palco della tendostruttura di fuorigrotta per mettere a disposizione della ricerca la propria professione. Patron della manifestazione è lo showman Diego Sanchez, fortemente impegnato in tutte le campagne di prevenzione e di lotta al tumore. Grazie a tutti. Grazie.